La Lega Nord si batte per le forze dell'ordine e ha chiesto lo sbloccamento dei fondi nella legge di stabilità? Abbiamo chiesto lo sblocco degli stipendi per le forze dell'ordine, una cosa che era stata promessa dal Ministro Alfano e che il Governo aveva garantito pubblicamente avrebbe fatto. Invece in legge di stabilità c'è un articolo e c'è un testo dove non si capisce assolutamente nulla ma oltretutto dal nostro punto di vista non vi erano le coperture necessarie per cui il Governo ha bleffato con i poliziotti. Abbiamo scoperchiato il tutto perché abbiamo presentato un emendamento che correggeva il testo e che arriva alla posizione per cui in legge di stabilità del Governo. La Commissione ci ha risposto che il nostro emendamento era inammissibile per mancanza di copertura per cui ufficialmente mancano i soldi per i poliziotti e ufficialmente Renzi e Alfano hanno mentito.